quick wrist medical solution è un software personalizzabile sviluppato con la tecnologia di ultima generazione che integra le principali attività di uno studio medico o di un centro fisioterapico prenotazione accettazione del paziente anamnesi valutazione funzionale gestione prenotazione e della visita emissione fattura e visualizzazione delle statistiche con inoltro di email sms personalizzati sono alcune delle sue caratteristiche è completamente fruibile via web su pc tablet o smartphone per accedere a week risk medical solution non serve effettuare nessun download l'accesso è immediato da ogni pc tablet smartphone con password e profili personalizzati è semplice ed intuitivo è sicuro con protezione dei dati e backup quotidiani ha il monitoraggio ed il controllo di ogni area attività aiutando la comunicazione tra i professionisti ha aggiornamenti costanti e personalizzazioni dedicate su richiesta è completamente customizzabile autonomamente dal centro di fisioterapia week risk medical solution è suddiviso in più aree ed ogni collaboratore può accedere alla propria semplificare significa offrire un servizio d'eccellenza ai propri pazienti e consentire ai propri collaboratori di lavorare con serenità e senza ulteriore accumulo di stress per svolgere le diverse attività in più week risk medical solution demo free trial offre l'opportunità di una prova completamente gratuita per un periodo di 30 giorni week risk medical solution operativi con un semplice click